Forza Italia nel Parlamento Europeo ha detto con convinzione no a questa risoluzione cervellotica sulla casa che l'Europarlamento ha voluto valare. Quel testo va riscritto. È giusto adeguare gli edifici alle nuove esigenze ambientali, risparmiare energia. Questo si farà con una bella legge sulla rigenerazione urbana che Forza Italia propone nel nostro Parlamento italiano, con incentivi e aiuti alle famiglie, ma non con imposizioni cervellotiche che diminuiscono il valore degli immobili, impongono ai cittadini oneri e costi improponibili e quindi per questo abbiamo detto no. Quella risoluzione per noi è carta straccia, va riscritta da cima a fondo. Le istituzioni europee rispettino i popoli europei e sappiano che la casa degli italiani e degli europei non si tocca. Più chiari di così?